Mediterranean Hope ha elaborato questa idea di canali umanitari secondo una norma prevista anche dai regolamenti di Schengen. Questo progetto ha una forte caratterizzazione ecumenica perché viene gestito insieme dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Comunità di Sant'Egidio. Questo è Mediterranean Hope e di questo ci parlerà a breve la prima ospite di questa sera. Ma anche la prima ospite, così come gli altri, vorrei consegnare una fotografia, un'immagine. L'immagine che voglio consegnare alla nostra prima ospite è l'immagine di Ragad, Ragad, bambina di 10 anni, siriana, figlia di una famiglia benestante. La famiglia è convinta di poter viaggiare in sicurezza verso l'Europa su una nave sicura, si trova su un barcone. Ragad ha con sé soltanto uno zainetto, nient'altro che uno zainetto. Nello zainetto ci sono soltanto delle iniezioni di insulina a salvavita perché lei è fortemente malata di diabete. Quella insulina costituisce la sua assicurazione sulla vita. Lo scafista, un po' per routine, un po' per arroganza, prende quello zainetto, faceva troppo volume nei limiti compressi dello spazio dello scafo, butta in mare quello zainetto, Ragad muore. L'immagine che io voglio consegnare a Marta, Marta Bernardini è questa immagine. L'immagine di una bambina che muore. Marta Bernardini lavora da oltre un anno e mezzo a Lampedusa, nel nostro osservatorio, e vice segretaria della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. Benvenuta Marta. Buonasera a tutte e tutte. Sono Marta e faccio l'operatrice per il progetto Mediterraneo a Lampedusa. Da quasi un anno e mezzo. Quindi Lampedusa è il luogo dove vivo e dove lavoro. Quando mi hanno chiesto di parlare a questa serata, davanti a voi, ho pensato molto a cosa vi avrei raccontato. Ho pensato a come avrei potuto esprimervi l'intensa esperienza di questi mesi a Lampedusa. Ho pensato a cosa raccontarvi di diverso da quello che sicuramente sentite quotidianamente in televisione o leggete sui giornali. Ho pensato a come avrei potuto in qualche modo rispondere a delle domande che forse tenete strette tra le labbra. Ma soprattutto ho pensato a come dare voce a quanti arrivano in Europa che sono i veri protagonisti di un esodo epocale di vite. L'Europa comincia da Lampedusa. Questo è il titolo di questa serata. E ho pensato di partire da questo titolo. Ma l'Europa comincia o finisce a Lampedusa? Vorrei partire raccontandovi che cos'è Lampedusa, chi sono le persone che la attraversano e questo come ci riguarda, come ci interroga. Oggi sentiamo ancora molto parlare di Lampedusa. Lampedusa è una piccola isola nel cuore del Mediterraneo. Dico piccola perché è un'isola di 20 km quadrati. È un'isola meravigliosa, con alcune delle spiagge più belle del mondo. Ma sono sicura che sentendo Lampedusa non pensate subito al mare e alle spiagge. Sono sicura che pensate prima alle persone che arrivano a Lampedusa, a quelli che riescono ad arrivare e a quelli che non riescono. Ad arrivare. Parliamo ancora di Lampedusa e ci rendiamo conto che Lampedusa è diventata un simbolo. È diventata un simbolo dove oggi ha ancora un grande significato stare, ha un grande significato vivere e lavorare. Perché da Lampedusa si vedono tante cose e si imparano tante cose. così come è per me. Lampedusa è un simbolo perché è stata costruita per esserlo. È stata costruita politicamente e mediaticamente. Lampedusa come piccola isola nel cuore del Mediterraneo in realtà è sempre stato un luogo di salvezza. Ci arrivavano le navi per fermarsi, per riposarsi, ristorarsi e poi ripartire in altri percorsi di viaggio. È stata un'isola che negli anni 90 ha accolto le prime persone che arrivavano da altri paesi. E negli anni 90 l'accoglienza che i Lampedusani facevano era un'accoglienza spontanea, senza il clamore dei riflettori. Ma oggi Lampedusa ci rimanda a un immaginario preciso. Sono sicura che pensate ai barconi stracolmi, ai naufragi, alla morte e alla disperazione. Nel 2011 Lampedusa è stata un'isola invasa, almeno per come veniva raccontata dai media e da alcuni attori politici. Un'isola invasa perché su 20 chilometri quadrati, su una popolazione di 5.000 abitanti, sono stati trattenuti per mesi 10.000 tunisini. E se Lampedusa viene invasa, Lampedusa che, seppur lontano, è un'isola italiana, se Lampedusa viene invasa, allora forse potrebbero essere invase anche le nostre città, le nostre case. È stata una scelta, forse, che per mesi così tante persone siano state trattenute su un'isola così piccola. E poi Lampedusa è stata l'isola del 3 ottobre 2013. Forse vi ricorderete anche questo triste momento. Nel 3 ottobre 2013, 368 persone, uomini, donne, bambini, morirono vicinissimo alle coste di Lampedusa. I superstiti vennero letteralmente salvati dal mare da alcuni lampedusani e lampedusane che erano uscite in barca per una battuta di pesca. Io sono sicura che alcuni di voi si ricorderanno quell'evento. Io non ero ancora a Lampedusa nel 2013, ma il racconto che mi hanno fatto di quel giorno, di giorni a seguire, è ancora molto vivido e bruciante nelle persone. Qualche mese fa ho avuto l'occasione di andare nel luogo del naufragio. Abbiamo fatto una commemorazione in mare accompagnati dalla guardia costiera e Lampedusa era vicinissima. Mi sembrava di poterla toccare allungando la mano. E quindi la salvezza era veramente molto vicino. un'isola di bellezza travolta dalla morte e dalla sofferenza. Dopo il 2013 Lampedusa è cambiata di nuovo. Si è deciso che cambiasse di nuovo. È diventata l'isola silenziosa durante Mare Nostrum quando con l'operazione militare i salvataggi delle persone che avvenivano nel Mediterraneo poi venivano accompagnati soprattutto in Sicilia quindi c'è stato uno spostamento dei flussi. E ancora Lampedusa invece ritorna alla ribalta come isola a rischio Ebola a rischio Isis dove forse è meglio non andare in vacanza con i propri figli perché la paura è una strategia molto convincente. Ecco Lampedusa è stata costruita simbolicamente e Lampedusa è diventata è un luogo di confine di frontiera un luogo di confine dove arrivano gli ultimi del nostro tempo. Una frontiera che però l'Europa sta cercando sempre di più di spostare di esternalizzare si cerca di spostare la frontiera in quei paesi dove ci sono le guerre dove i diritti vengono annullati cosicché il problema sia più lontano da noi. E quindi possiamo dire che l'Europa comincia a Lampedusa? Forse l'Europa comincia in quei paesi impoveriti dalle scelte del nostro continente paesi impoveriti perché depredati delle loro risorse primarie perché supportati in dittature e i governi che annullano tutti i diritti. Invece l'Europa dovrebbe cominciare da questi paesi offrendo vie legali sicure di arrivo in Europa per le persone. Offrendo canali umanitari tramite le ambasciate o comunque possibilità dignitose di raggiungere il nostro paese e l'Europa. Ma vi voglio anche raccontare delle persone che passano da Lampedusa. ho incontrato moltissime persone in questi mesi le persone che arrivano accompagnate dalla guardia costiera perché sono state salvate in mare e sono volti stanchi ma pieni di speranza. e a volte invece non è così. A volte sono persone sotto shock perché hanno preso una barca fatiscente o peggio la barca forse è così il lusso adesso gommoni fatiscenti per raggiungere un'idea di salvezza e di libertà. Sono persone che a volte sopravvivono ancora prima di partire sopravvivono al deserto quando si imbarcano sopravvivono al soffocamento nelle stive delle barche ai naufragi ma poi queste esperienze non se le tolgono più dalla pelle come i segni della frontiera che attraversano. Questi sono uomini che devono mantenere intere famiglie magari nel loro paese non possono più lavorare forse perché perseguitati per la loro fede e questo a noi quanto brucia. Sono donne che scappano da violenze continue violenze che continuano a subire per tutto il viaggio e che arrivano in Europa incinta non sicuramente per loro scelta. Sono bambini persone che quando arrivano mantengono l'innocenza di chi avrebbe il diritto di vivere un'esistenza dignitosa. Sono persone con dei nomi delle storie delle storie che noi preferiamo non vedere. Preferiamo trattare chi arriva come un peso da respingere o da delegare a qualcun altro o come povere anime da accogliere con carità. Certo noi le persone le salviamo in mare se riusciamo perché forse sarebbe troppo non salvarle in mare ma poi quando arrivano sono presenze scomode vengono accolte nei nostri moli con luci abbaglianti con mascherine con guanti come se arrivassero gli infetti di un mondo che non vogliamo vedere e poi li rinchiudiamo nei centri di accoglienza ermetici come fossero dei criminali e invece sono profughi persone richiedenti asilo. Quando ho la fortuna di parlare con chi arriva a Lampedusa al molo Favaloro al quale presto assistenza insieme a tante altre persone di Lampedusa volontari che ancora oggi hanno la voglia di spendersi per chi arriva quando incontro chi arriva le persone mi dicono di essere felici mi dicono I'm free now sono libero adesso e io stringo i denti e penso che in realtà il loro viaggio non è finito è ancora molto lungo e non sono liberi ancora sono arrivati in un'Europa ostile molto più di quello che avevano desiderato o immaginato e forse non vivranno liberi non ancora come non sono liberi di decidere se rimanere o se partire come non sono liberi di decidere dove andare molte persone arrivano e spariscono spariscono nel mercato dello sfruttamento del lavoro nero nelle nostre campagne o nel circolo della prostituzione e poi ci sono tanti giovanissimi sono ragazzini dell'età dei nostri cuginetti dei nostri fratelli minori di nostri figli e delle nostre dei nostri figli sono giovanissimi che non sappiamo molte volte che destino avranno quando arrivano a Lampedusa e vengono accompagnati con il pullman dal centro di accoglienza al molo sembra di vedere dei ragazzi in gita e invece sono persone in cerca di libertà ho pensato molto a cosa vi avrei detto stasera forse stasera vorreste sentire da me molte più storie di quello che ho visto e vissuto a Lampedusa forse vorreste sentire racconti che vi fanno commuovere non vorrei essere solo qui per questo stasera ma per farvi capire cosa ho imparato in questi mesi vorrei farvi capire che se l'Europa comincia a Lampedusa come il titolo ci suggerisce beh se l'Europa comincia a Lampedusa io posso dirvi che mi vergogno mi vergogno perché l'Europa muore nel Mar Mediterraneo perché ogni persona che perde la vita è nostra responsabilità mi vergogno perché se siamo orgogliosi di un'Europa che è stata costruita per difendere i diritti di tutti gli esseri umani di tutti gli esseri umani noi ogni giorno violiamo i diritti di intere popolazioni che scappano io non posso essere orgogliosa di diritti che valgono solo per me solo per noi che siamo nati da questa parte ricca e fortunata della frontiera quando a febbraio di quest'anno sono arrivati al molo di Lampedusa i corpi di 29 persone i corpi nei sacchi persone morte di freddo in mare ho provato dolore e molta rabbia a Lampedusa l'aria di lutto si sente forte mi sono sempre chiesta se si senta solo a Lampedusa o anche nelle nostre città in quegli stessi giorni a Lampedusa chiusi nel centro nel centro di accoglienza invece c'erano i sopravvissuti i sopravvissuti a quella tremenda traversata coloro che erano stati al fianco dei 29 compagni di viaggio che invece non ce l'hanno fatta questi sopravvissuti erano nel centro di accoglienza nessuno di Lampedusa poteva incontrarli e parlare con loro così abbiamo fatto una manifestazione silenziosa un fiore per i morti e un abbraccio per i vivi ma l'abbraccio non è potuto arrivare oltre i cancelli del centro di accoglienza zona militare e così ci siamo accontentati di infilare i fiori nella grata del centro di accoglienza non offriamo neanche la possibilità di piangere i morti e di consolare i vivi a Lampedusa si incontra quindi l'intera umanità si incontra l'intera umanità e si impara a conoscere la propria umanità è un luogo dove fare esperienza diretta del più grande dramma del nostro tempo ma questa umanità non arriva solo a Lampedusa e non si ferma solo a Lampedusa arriva in tutte le nostre città nelle nostre chiese bussa alle nostre case sicure di cittadine e cittadine che abitano questa parte della frontiera e questa umanità ci interpella come credenti noi non potremmo dire che non c'eravamo non potremmo dire che non abbiamo visto e che non sapevamo io ci sono io vedo e io so una cara amica una cara amica lampedusana che stasera mi presta le sue parole per concludere mi dice sempre io non mi sento orgogliosa di vivere su quest'isola mi sento fortunata perché essere qui mi permette ogni giorno di scegliere di stare dalla parte giusta e forse in questo momento con questo progetto e con altri progetti le nostre chiese hanno la possibilità di scegliere di stare dalla parte giusta grazie grazie